Ho fatto una scelta di vita, ovviamente venire a Trieste per la mia retta finale della carriera per me è stato un bellissimo stimolo. In forma smagliante, carico di motivazioni e pronto a stupire. Pablo Granoce si ripresenta così, nove anni dopo la sua prima esperienza in maglia triestina, quella dei 24 gol in Serie B, che lo portarono alla ribalta nazionale e all'ingaggio del Chievo in Serie A l'anno seguente. La prima sgambata, visto il giorno di riposo odierno del gruppo di Pavanel, arriva sul campo in sintetico del domio, agli ordini del preparatore Billy Marcuzzi. Provo tante emozioni, sono felice di essere tornato qui perché era tanto che aspettavo questo momento e questo penso sia stata l'opportunità migliore, il momento giusto da tornare e ringrazio a Mauro che mi ha contattato da un bel po' di tempo e sono veramente felice di essere tornato. Il linguaggio del corpo è quello di un uomo che a Trieste si sente a casa, in giornata la visita in sede allo Stadio Rocco e l'abbraccio con i vecchi amici di un tempo mai dimenticati, poi i richiami di preparazione atletica sotto gli occhi stupiti della formazione giovanissimi dell'Unione, proprio quei virgulti del vivaio che stando al contratto firmato dall'Italo-Uruguayano, Granoce potrebbe pure allenare fra qualche anno. Ti ho accettato subito, purtroppo sono arrivato un po' in ritardo per problemi con lo Spezia, però la proposta che mi ha fatto Mauro mi ha fatto subito piacere, sono felice di essere tornato, come dicevo prima, pensiamo veramente solo alla parte del calciatore perché ho tanta voglia di fare bene sul campo, speriamo di iniziare bene quest'anno. Infine uno sguardo al campionato di Serie C in cui la Triestina, impossibile nascondersi dopo il suo ingaggio, parte nel lotto delle pretendenti alla promozione. Bisogna andarci piano, bisogna iniziare a fare punti da subito senza guardare troppo a un obiettivo lontano, penso che la Serie C per quello che ho visto da fuori è una categoria molto dura, ci sono due o tre squadre che si sono rafforzati tantissimo, quindi sicuramente dobbiamo partire cauti, però cercando di fare punti dall'inizio per poi più avanti e vedere come ci troviamo.